Flannery Cup, seconda edizione, girone del venerdì, si affrontano PLP White, Atletico Maracanà, risultato fermo su 1-1, reti di Luise per quanto riguarda l'Atletico Maracanà e di Ungaro L per quanto riguarda il PLP White. Vediamo adesso Atletico Maracanà, provare con Luise, poi Guarino, viene fischiato un fallo dal direttore di gara, Fulvio Accuso, e Luise a dover calciare questa punizione, in corsa lunga di Luise, viene sistemata la barriera. Sta per arrivare il fischio, arriva in questo momento Luise, prende la grana, rincorsa la botta potente ma poco precisa, arrivano le sostituzioni, si riparte dal fondo, estremo difensore di PLP White, Itzo, Può provare a far ripartire i suoi, cercare un margine di vantaggio sugli avversari, pala lunga, anticipata da D'Angelo, di testa, nonostante la statura in elevazione, davvero un buon giocatore. Federico Ungaro, lancia, indirizzo di Baccaro, Baccaro cerca di servire Luca Ungaro, nulla da fare, Guarino si inserisce, Guarino, gioco di gambe, poi Federico Ungaro ruba palla, prende spazio su D'Angelo, Vede salire Di Pietro, liscia la conclusione, peccato, Toscano, rimessa laterale per Guarino, Federico Ungaro mette la palla fuori, Guarino lascia poi la rimessa laterale a Toscano, Palla nello spazio per Luise, poi Tricarico, anticipa, la palla rimane lì, Di Pietro, serve male un passaggio, Guarino può provare a siglare una buona conclusione, cerca di prendere lo spazio, poi Toscano, nulla da fare, Tricarico, fa ripartire i suoi, Luca Ungaro, fermato da D'Angelo, arriva la conclusione di Tufano, Palla intercettata da Federico Ungaro, Tricarico, lancia a lungo l'indirizzo di Vaccaro, portiere nuovo dell'Atletico Maracana, Gianmarco Tufano, fratello dell'omonimo Tufano, prima presenza per lui, prima presenza anche di Russo, Guarino si invola a lungo lato di sinistro, prova a saltare Di Pietro, un rimballo favorevole, poi aiuta il PLP White, Izzo, fa ripartire in Scano Tricarico, allarga per Di Pietro, Di Pietro, Di Pietro, prova a salire, si, botta da lontano, potente, poco precisa, un palmo alta sulla traversa, Tufano, Russo, Guarino, Luise, ancora Russo, fraseggio abbastanza positivo, l'Atletico Maracana, fanno girare bene palla, Tufano da lontanissimo, ancora la palla alta, anche se il tiro da lontano fa parte delle carte, fino adesso messi a terra da Tufano, rimessa lunga l'indirizzo di Vaccaro, la palla si spenge, poi oltre il fallo laterale, D'Angelo, cambia tutto su Toscano, mette palla giù di petto, poi serve Russo, D'Angelo, palla dentro per Luise, che di testa fa la sponda, al solito Tufano, ancora una conclusione da lontano, Di Pietro si complica un po' la vita, Ungaro, una rimessa laterale, DPL più White, proprio Di Pietro, scaricare sul Vaccaro, la palla finisce fuori, Toscano, una rimessa laterale, palla per Guarino, Di Pietro, ancora Toscano, scusatemi, Toscano lancia D'Angelo, nulla da fare, la palla rimane lì, Guarino, Guarino, gioco di gambe, scarica dietro sul Russo, Russo alza la testa, ancora Tufano, non perdono il possesso palla, lancia dentro per Luise, Tufano, Di Pietro si inserisce, ruba ancora la palla una volta Tufano, scusatemi, Guarino, conclusione, bordata violenta di D'Angelo, la palla rimane lì, Luise, arriva anche il gol, doppietta personale di Luise, chiudiamo qui le riprese, 2-1 parziale per il risultato finale, www.brumpampiero.it